A Taranto, presso la sede di ConfCommercio, una conferenza stampa di presentazione del progetto Bar, Drink, Food e non solo. Ebbene, 464 bar presenti nella sola città dei due mari, 105 quelli allocati a Martina Franca, 109 a Mandure, 80 inoltre a Grottaglie, per un totale di 1.441 bar in tutto il territorio provinciale, 1.163 ristoranti e 133 gelaterie e pasticcerie. Numeri questi che parlano di un'offerta imponente, di un settore che può crescere, soprattutto se qualificato e pronto a superare le difficoltà date dalla crisi economica in atto. Difatti il settore bar, sino al 2009, registrava un saldo positivo, mentre negli ultimi anni ha mostrato segnali di sofferenza. Un segmento economico, poi, questo capace di attrarre particolarmente i giovani e i neoimprenditori che ha bisogno di essere affiancati e sostenuti. Da ciò l'iniziativa Taranto. Sì, è un settore che è in crescita e sicuramente è importante, importante per i nostri contesti, visto che noi riteniamo che lo sviluppo di questo territorio debba passare attraverso tante altre opportunità. Riteniamo però anche con forza di rivendicare un concetto di legalità. Credo che sia importante che se noi vogliamo costruire dei percorsi che tutelino le persone per bene, che tutelino le persone che fanno investimenti, perché chi fa un investimento tante volte è costretto anche a farsi dei mutui, a ipotecarsi la casa, a fare degli interventi diversi. E non è giusto che chi non paga nulla, credo in generale, in questa città come vale in tanti altri posti, credo che si tuteli. Chi invece fa degli investimenti e si crea delle difficoltà anche economiche per stare nella legalità, rispetto della legalità, non debba essere tutelato. Un progetto, quello presentato, che vuole innovare il settore proponendo nuovi modelli di business, marketing, format per un'impresa al passo con i tempi. Quindi non solo luoghi dove consumare un pasto, ma anche dove rintracciare i servizi, intrattenimento, il tutto votato alla trasparenza e alla qualificazione degli imprenditori. Il Commercio dimostra di voler adottare quali criteri della propria azione, la trasparenza, la formazione, la qualificazione dei propri percorsi. Infatti, nonostante ci siano tanti operatori che entrano nel mercato, purtroppo nel secondo trimestre del 2017 circa il 65% hanno dovuto chiudere i battenti.